Un santo Stefano al palazzetto. Il 26 dicembre si chiude infatti il giorno di andata della Samsung Gear Volley Cup. Quella di lunedì sarà una giornata fondamentale perché non solo verrà decretata la regina d'inverno della stagione, ma si stabiliranno anche le otto formazioni che a gennaio si affronteranno per contendersi la Final Four di Coppa Italia. Alla Pumicas al Maggiore basta solo un punto per chiudere in testa la graduatoria questa prima parte della regular season. Le Rosa dovranno vedersela con la Metal League Montichiari, una formazione ostica e alla ricerca di vittorie per dare continuità alla vittoria con Firenze. Gli occhi sono puntati anche sul palaverde dove i Moco Volley Conegliano e Foppa Pedretti Bergamo, entrambe a 22 punti, giocheranno un vero e proprio rematch della Supercoppa Italiana. Attenzione alla sfida tra Igor Gorgonzola Novara, giunta alla sua quarta vittoria consecutiva in campionato, e la Unetimamai Bustarsizio, uscita rinvigorita dal successo contro Monza. Se la Savino del Vene Scandicci tenterà di mettere la parola a fine al proprio ruolino di marcia negativo nella stracittadina contro il Bisonte Firenze, anche il Liugionor meccanica Modena è desiderosa di rimediare alla battuta d'arresto della scorsa giornata, ma riuscire a far risultato al Palaresia non è cosa semplice. Il sutiro al Bolzano infatti non perde tra le mura amiche da tre turni. Chiude il quadro di questa undicesima giornata la sfida salvezza fra Saugella Tim Monza e Club Italia Crai. In palio punti preziosi per allontanarsi dalla zona rossa della classifica.